Usciamo dalla miniera, dopo abbiamo raccolto tutto quello che ci serviva e raccogliamo un po' di legno. Perfetto, andiamo a casa. Cos'è quello? Cos'è sta roba? Si trova in Minecraft normale? Scraffiamo un po' di legno. Livello 4 keycard. Riccardo? Cos'è? 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 Mmm, molto strano. Ah, ma non me ne hanno neanche reso conto. Che simbolo strano, sembra un po' familiare. La porta siamo in un istru. Andiamo via. No, non credo a quello che ho visto. Non ci credo. Andiamo via. Era un laboratorio SCP. No, non è possibile. C'è l'unica via, mi sa che... Qui c'è una roba brutta. Allora, questo SCP è molto particolare. È un SCP umanoide. Di cui non va vista mai la faccia. Se solo si dovesse vedere in fotografia, oppure nella vita reale attraverso un metro, tranne in un disegno per eccezione, lui dovrà, o lei, dovrà ammazzarvi a qualsiasi costo, spaccare muri. Anche... Se voi... Foste... Dietro dieci metri di cemento armato di muri, vi ammazzerebbe lo stesso. Troverebbe il modo. No, non è possibile. Questo cos'è? Ha la stessa protezione di un'armatura in diamante, quindi... Me lo tengo da parte, magari. Ma questo è un SCP. 148. De... Te... Le kill alloi. Teniamolo da parte, ce ne sono anche altri. Tre. Non so a cosa servono. Un'altra chiave di livello 4. Ecco, un'altra di livello 2. Una torcia e una batteria. Un'altra batteria. Penso che servano le batterie, quindi nel dubbio le prendo. E qui? Cosa c'è? Cosa c'è? No, questo... Questo è ferro. Questo qua è acciaio. Quindi... Qua dentro mi state dicendo che c'è... Oh, cavolo. Non lo so se entrare oppure lasciar perdere perché... Diciamo che questa... Era un... Questo era un mondo che volevo portare avanti. E ora mi sto un po' cacato in mano perché ho paura. Vabbè, nel dubbio io ho una pistola con 35 caricatori. Apriamo? Ho un po' di paura. No, 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 no. Come via di fuga l'unica è questa. Non possiamo fare altro se non costruirci un pillar. Facciamo così. Prepariamoci un blocco di rialzo per andare in vantaggio e far mettere solo un blocco. Allora, spacchiamo... Questo mi sembra... Un po' meno resistente. No, a me sembrano uguali. Ok, ho spaccato. Ma non c'è niente. Che cosa orribile. Ha le braccia insanguinate. Penso che sia... Oh, mamma mia. Penso che sia un laboratorio... Ma sono... Ma... Ma... Certo. Certo. Di scappare poi sono cavoli nostri. Guardate che brutto. E' orribile. E' seduto ma è alto quasi due blocchi. Ha delle braccia lunghissime. Non so... Se guardarlo... Ok. In tutto il corpo non succede niente. Per me... Ho un po' di paura a guardarlo in faccia. Perché poi come vi ho spiegato... Spacca... Pensavo si fosse arrabbiato. Perché mi è scappato... Oddio. Provo a guardarlo in faccia... E poi scappiamo. Allora... Stiamo solo perdendo tempo. Ora non lo guardiamo più. E' amichevole. E' amichevole. Cavolo, cavolo, cavolo. Sto panicando. Sto panicando, oh mio Dio. Lo aspettiamo qua. Oh mamma mia. Vanno via vaffa. Fate via voi. Non sapete quello che ho dovuto affrontare. Ok. Oh. Dobbiamo... Proviamo ad aprire la gabbia. Da sopra per vedere cosa è successo. Vediamo dov'è. Oh, è arrabbiatissimo lì dentro. Qua siamo al sicuro fortunatamente. Non credo mi riesca a colpire. E' bruttissimo da arrabbiato. Io direi di aprirgli una via di fuga. Così perché è stato rinchiuso per tanto tempo. Stavo scherzando, era una pattuta. Tranquillo. Non credo che bisogna avere pietà. Non credo che bisogna avere pietà. Se sono stati rinchiusi c'è un motivo. Non ho sparato. Ho sparato mezzo caricatore addosso. E non è morto. Mamma mia. Mamma mia. È velocissimo, un fumine! Allora. Qua direi di ritappare. Per sicurezza. Magari riesci ad evadere da questo buco. Che se non credo resisterà molto questa gabbia. Lasciamolo libero, che ne dite? Qua in geria siamo sicuri qua sopra. Oh. Mi fa piacere. Ah, c'era una lampadina. Mi fa piacere. Ma dov'è? Però è ancora qua Non è ancora morto Nonostante l'intero caricatore Che io ho mandato addosso Una pistola in mano Non so che fare L'idea è di cercare Di aprirgli un varco Verso la libertà E poi chi si è visto si è visto Magari voleva Vuole un po' Un po' È finita È finita Allora come stavo dicendo Non so dove andare Mi sono completamente perso Secondo me Però su una cosa L'SCP è libero Ed è una cosa che a me Preoccupa molto E non so neanche perché Io l'ho fatto un botto di roba In diamante Avevo la mia pistola Non posso averla persa Non è successo veramente Sono nella direzione sbagliata Aspetta Il death point Nella mappa È diverso di là Qual è la mia morte Completamente dall'altra parte Rispetto a dove stavamo andando Vai Andiamoci È proprio lì Andiamo 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 Amici Purtroppo Stiamo dischiando Veramente Molto Speriamo che si sia Cal Ma quelle sono altre celle Oh mio dio Sono altre celle E non mi sembrano quelle Dello Shy Guy Dalla forma No 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 Dobbiamo scappare Dobbiamo allontanarci Il più possibile Da qua No Chi sa Chi c'è qua dentro Andiamo via Ho sentito un rumore bruttissimo Andiamo via Andiamo via Mamma mia Che brutta cosa Che è lì il death point Ciao pecora C'è anche il mio zaino Dove sono ripruzzato Chi c'è là Cerchiamo di non farci vedere da là Dalla strega Prendiamo un po' di legna Così da farci un pillar Ok 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 Stringi lì la faccia Oh ma è qua dove ho Dove ho appasciato Dobbiamo ammazzare la strega Oh la mia pistaccia ancora Ah si Pensiamoci Armatura E via via Dov'è la strega Ho droppato il mio piccone Cerchiamo di Riconporci l'inventario Come la prima Abbiamo spaccato Un botto di rove Ok Interio ha tutto Ancora lì il tizio Ok Annunziamo la strega Così non abbiamo Seccature Dove sei Strega Ok amici Perfetto C'è Il mio zaino Dov'è il mio zaino Sarà sopra Ok Ecco dentro Perfetto Allora una delle cose più preziose Che avevo il mio zaino Oh mio dio Ciao Non me ne vado Ci devi? Cioè Ciao 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 Bye bye Ok Scappiamo più lontano possibile Quando lo vedremo uscire dalla sala Troppo tardi Adesso c'è una distanza di sicurezza Guardiamo quando viene Non viene Non viene Ci sei Grazie a tutti. Oh mio Dio. Oh mamma mia. È libero. È riuscito a uscire dalla cella. Ha spaccato tutto. È lì sotto. Cosa ne dite amici? Scappiamo? Chi si è visto si è visto oppure cerchiamo di ammazzarlo? L'idea di scappare il più lontano possibile. Anche se lì vedo anche altre celle che vogliono essere esplorate. No, sono morto. Ok, ho mezzo cuore. Oddio! No! 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 Non così. Non così. Non così. È dietro di me. È dietro di me. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sei calmato? È lì. Sei bloccato in un albero. È stupido. Io direi di salutarci per il momento. Oh cavolo, l'ho liberato, mannaggia me. No. Dobbiamo trovare un luogo sicuro dove sta. Ok? Ci salutiamo amici. Non so come riuscire a risolvere questa situazione. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo in prossimi video. Ciao ciao!